Gentili telespettatori, buona giornata, sondaggio TP termometro politico di oggi, venerdì 22 novembre 2024. A due anni dall'inizio del suo governo, a fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chi risponde per nulla sarebbe la maggioranza 47,9, chi risponde poco 10,4. Chi ha un'opinione diversa, contrapposta, che risponde abbastanza il 14,6%, chi risponde molto il 26,7%. Chi dice di non sapere o preferisce non rispondere 0,4%. Se facciamo la somma di chi dice poco e per nulla abbiamo un 58,3% se non ho fatto male. I calcoli a mente. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.